Ciao ragazzi, benvenuti di nuovo sul mio canale e oggi volevo parlarvi un po' delle idee di business che si possono fare in Lituania o comunque come fare business, nel senso un video dedicato a questo tema perché veramente tantissima gente mi manda messaggi, mi chiede informazioni su questo tema. Diciamo che adesso io sono qua vicino a un concessionario di auto e sono strapieni a palla, quindi macchine nuove stravendute, ma cosa c'entra questo con questo tema? Uno dice no, perché nel senso che è equivalente, una volta il parco macchine qua era usato, adesso sono nuove. Cosa significa? Che la gente inizia ad avere un po' più di soldini. È chiaro che tante auto qua sono aziendali eccetera eccetera, tante aziende americane hanno investito, però cioè tutto sommato il mercato è cambiato e quindi è cambiato anche un po' tutto. Quindi tanta gente mi dice, ah porto i prodotti tipici, cosa trita e ritrita, trita e ritrita e ritrita dal 1991, da quando il paese è diventato libero. Quindi voglio dire, va benissimo come idea, tutto è possibile, c'è chi ce la fa, c'è chi non ce la fa. Dire che non si può più fare business qua è stupido perché si può fare. Dire che tutti falliscono è stupido perché qualcuno ce la fa, perché c'è un po' questo gossip ormai che girano, c'è questa voce, ah gli italiani vengono qua, investono, perdono tutto, perdono i soldi e non fanno niente. Non è vero, dipende da cosa fate, ma come in altri paesi, cioè non è che se in Italia apri un business 100% ti va bene, o in Spagna o in Francia, è la stessa cosa. Allora, consigli, eccoli qua, questo infatti il titolo si chiama come, cioè cosa aprire e come aprire e cosa fare. Prima di tutto, vabbè ma non sono io, chi è in gamba queste cose le sa già, però prima di tutto cerchiamo di aprire qualcosa che tu sai fare, non è che devi aprire una roba che non hai mai fatto in vita tua, cioè io arrivo da, non lo so, dal campo della meccanica e mi apro un ristorante, sì, però attenzione perché qua la ristorazione è un campo molto difficile, perché seguono le mode, quindi hai sempre, devi sempre seguire la moda che gira, quella più popolare, quella più famosa e metterti dentro. Da noi è un po' diverso, si guarda più alla qualità piuttosto che alle sedie, al design del locale. Quindi, se siete del settore, allora va bene, perché capite subito se una cosa è fattibile o no. Ovunque voi siate, fate due conti, sì, in questo paese abitano due milioni e mezzo di persone, a Vilnius ce ne sono 600 mila, a Kaunas ce ne sono meno. Quindi a Vilnius sono affitto, gli affitti in centro a Vilnius sono carissimi adesso per i locali, per ristoranti, per ristoratori, per chiunque vuoi aprire una cosa nel centro di Vilnius, come rivendita, negozietto. Sono impazziti, ma perché? Perché ci sono tanti stranieri, ci sono tante, come dire, banche scandinave che viziano il mercato, quindi i posti sono pochi e si ripigliano chi può. Quindi, ci ho detto, diciamo che aprire un business è facile, molti mi chiedono quanto posso spendere. Io non posso dire, dipende cosa fai, ma in centro a Vilnius si tratta già di cifre come in Italia, se non di più. Quindi, attenzione, il mercato di lavoro è diventato caro, gli dipendenti vanno pagati praticamente quasi, come in Italia è un po' più conveniente, è un po' più conveniente, però le tasse sono molto simili. Io so che qua i commessi tipo barissi e cose del genere possono variare addirittura dai 3 euro all'ora fino ai 9 se sono bravi, quindi fatevi un resto che ci sia un range larghissimo, però di media sono 4-5 euro all'ora, perché di meno poi non vengono, non vengono neanche, non trovate nessuno. Come infatti, nessuno trova camerieri, barissi, perché? Perché prendono i sussidi, adesso del covid, anche se fra poco si esauriranno, e preferiscono starsene a casa piuttosto che essere sottopagati così. Quindi, questa è la cosa, però voi direte, ma come, tu dici che girano i soldi e i camerieri sono così sottopagati? Sì, perché sono tutti studenti, ragazzini, gente inesperta, poi quello bravo magari gli danno anche un po' di più, ma la gente brava qua non c'è, se ne va tutta in Scandinavia. Quindi un mercato un po' strano. Per quello vi dico, prima di aprire un business dovete essere del settore, qualsiasi settore voi siate, e poi stare qua, parlare anche un po' la lingua, perché se voi parlate la lingua siete molto più credibili rispetto a uno che non la parla, basta poco. E stare qua e appoggiarvi a degli avvocati locali, a dei commercialisti, fare un business plan, non vi avventurate senza business plan, subito il business plan con i calcoli, che ne so. Io al giorno faccio dieci, al mese faccio cento, ho cinquanta di spese e mi rimane cinquanta. Queste sono cose importantissime, perché io vedo tanta tanta gente che viene qua a fare l'avventura, e poi piange, perché i prezzi adesso qua sono diventati cari. Non è più il paese di vent'anni fa, uno pensa di venire qui con ventimila euro, farà qualcosa, non si fa niente. Niente, non riesci neanche ad aprire un UAB, che sarebbe una società. No, ce la fai, però o apri fuori, vai fuori in periferia, ti prendi un negozietto piccolino, però che vita fai? Poi non lo so, tutto è opinabile. Ti dico, io qua c'è un amico che fa il meccanico anche, quindi lui è bravissimo come meccanico, si è aperto la sua officina, tutti gli italiani e stranieri vanno lì, quindi chi ha la macchina usata, chi non c'è la nuova, eccetera, va da lui, si trovano bene. Cioè, vabbè, nessuno è perfetto e nessuno ha gli stessi gusti degli altri, quindi c'è chi si trova benissimo, c'è chi è, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, le cose ci sono da fare, i business ci sono, quindi chi vi dice no, 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 non è possibile, non è vero che non è possibile, è possibile che però state attenti, quindi tutto è possibile nella logica delle cose. Voglio dire, attenzione molta alla ristorazione, caffè, bar, perché gli italiani sempre quello vogliono fare, aprire le cose di prodotti, perché i lituani, se voi conoscerete la loro cultura, non sono come noi, mangiano poco, non hanno il, mangiano, perché è un bisogno il mangiare, tipo, per noi andare in bagno, capito, quindi non stanno lì a preparare tutti i giorni la tovaglia, no, mangiano piena dal frigo, una roba, mi sa, mangliano, finisce lì la cena. Sì, un po' triste, voi direte, sì, molto triste, ma tutti gli aspetti culturali sono interessanti qua da analizzare. Chiaramente i giovani magari sono un po' cambiati, le famiglie più abbienti, però in generale c'è un ragazzo che si è aperto una pescheria, per esempio, e sta andando forte perché il pesce mancava, anche se non è che ogni volta che una cosa manchi significa che poi funzioni, perché magari si manca e perché non piace a nessuno, come se in Italia inizi a vendere le alghe del... non le mangia nessuno, magari qualcuno le mangia, però voglio dire, un giapponese viene da noi e dice eh ma non ci sono le alghe dell'oceano, bla bla bla, ok, le porto perché sono buonissime, ok, secondo te noi ci mangiamo il pesce spada, il tonno e la pasta, quindi voglio dire, se una cosa non c'è non vuol dire che funzioni. Io sono qua da tanti anni quindi posso avere un'idea, non dico che quello che... non voglio dire che di essere sicuro al 100%, però generalmente è così, credetemi, è così e quindi ristorazione, prodotti, prodottini, ce ne sono milioni adesso, ma veramente è ovunque, poi è arrivato il leader con tutta la roba italiano, eccetera, 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 Instagram ha dato l'ultima bastonata. Se volete roba di qualità c'è anche assorti, roba di qualità e la paghi un po' di più che in Italia, ma c'è tutto, quindi te piccolino arrivi qua, ti porti qualche cosa fai, niente. Sì, ti puoi creare la tua rivendita, ci sono anche dei ragazzi italiani che l'hanno fatto, si servono ristoranti, grossisti, eccetera, eccetera, però i numeri sono così piccoli che dovreste girare fino a Riga, Tallin, Polonia, perché solo qui non riesci neanche a pagarti le spese, che ormai le spese sono come da noi in Italia. Quindi attenzione al business perché può essere un'ottima idea, ma anche un'idea cattiva, nel senso che il paese non è facile, questo tengo a dirvi, perché tutti pensano di venire qui come nel 91 con quattro soldi da aprire. Non è più così. Poi vedete tante donne, le macchine grandi, vi lasciate abbindolare, bam, e prendete la mazzata. Attenzione. Quindi lavoro da dipendente ce n'è tanto, ma se volete aprire un'attività e siete esperti nel vostro settore, secondo me spazio ne potete avere, dipende da cosa fate. Ma anche nella ristorazione, se avete delle belle idee, cioè non è vero che non va, cioè è difficile, è un settore difficile che bisogna conoscere, ma come anche in Italia e da altre parti. Quindi ragazzi, per domande su cose un po' più dettagliate, mi scrivete un messaggio, io sarò lieto di rispondervi. Ciao!